Il presidente della Fondazione Agrigento 2025, capitale italiana della cultura, Giacomo Minio, parteciperà al cantiere delle idee del cartello sociale di Agrigento. L'incontro, che ha registrato diverse adesioni nel mondo dell'associazionismo e degli operatori culturali, si terrà mercoledì 28 febbraio, con inizio alle ore 10, presso le fabbriche Orestiadi di Agrigento, alla presenza del presidente dell'Orestiadi Pumilia, del direttore Biondi, La presenza del presidente Giacomo Minio della Fondazione Capitale della Cultura consentirà di sviluppare un proficuo confronto con i protagonisti del territorio al fine di addivenire a quel risultato che auspicò Albergoni subito dopo la programmazione che riconosceva da Agrigento il titolo di capitale italiano della cultura per l'anno 2025. In quell'occasione ebbe a dire Roberto Albergoni di ritorno da Roma se nel 2025 dovessimo realizzare perfettamente, ma solamente quello che abbiamo scritto nel progetto, dal mio punto di vista, sarebbe un fallimento totale. Mi aspetto che il progetto che realizzeremo sarà frutto dei contributi di tutti. Con questi intendimenti e con questo spirito costruttivo, il cartello sociale di Agrigento, con il cantiere delle idee, punta a offrire un tavolo di confronto, di supporto al lavoro complesso e impegnativo che la Fondazione, preseduta dal professore Minio, porterà avanti per cogliere la storica occasione che si è presentata per consolidare e sviluppare il brand Agrigento.